Dopo una vittoria come quella con Cagliari abbiamo dormito bene, però il giorno dopo siamo subito tornati in campo perché vogliamo andare sempre così, ci vogliamo allenare sempre al 100%. Certo, sappiamo che contro il Novara ci aspetta una gara difficilissima, però noi andiamo lì a fare il nostro gioco, a fare una bella prestazione. Quello sicuramente, come abbiamo dimostrato anche fino adesso, siamo molto umili con i piedi per terra. Sì, il merito pure del mister che mi ha fatto riprendere la fiducia che l'anno scorso l'avevo persa, anche dei miei compagni che siamo molto più uniti, anche della mia famiglia, della mia ragazza che mi sono stati tutti vicini. Sì, siamo un grande gruppo, un gruppo fantastico che ci aiutiamo sempre, se uno ha qualche problema cerchiamo di aiutarlo, penso che questo si vede pure in campo.